Cari amiche e cari amici, per parlarvi della Pasqua voglio partire dal Cardo e dal Decumano, che era la croce tracciata sin dai tempi di Romolo, nel caso di Romolo per fondare la città di Roma. Nel caso poi dei castri, degli accampamenti romani, sempre si partiva da questa croce. E il braccio della croce era orientato verso nord, perché in nord c'è la stella polare, e quindi rappresentava l'immutabilità, l'eternità dei valori romani. E il Decumano, invece, si tracciava dopo aver tracciato il Cardo, per questo si chiama Decumano, perché se avete presente il numero 10 romano, è una croce. E quindi rappresentava, quest'altra linea, la transitorietà, invece, della città di Roma. E quindi i romani sapevano che attraverso il Cardo, da quei Cardine, anche, che è il punto dove ruota la porta quando si apre, il Cardine rimane fermo. Quindi il Cardo era il punto di stabilità, la stella del nord, l'eternità dei valori romani. Il Decumano, invece, rappresentava la transitorietà, e quindi i romani, sin dall'inizio, sapevano che la città di Roma sarebbe un giorno cessata, finita. E questa simbologia, poi, la ritroviamo nel cristianesimo. Si verticalizza, il Riccardo e il Decumano diventano i bracci della croce di Cristo. E il braccio verticale indica il rapporto tra il cielo e la terra. Quindi il Cristo come momento di unità tra il cielo e la terra, Gesù. E il braccio, invece, orizzontale, rappresenta l'amore di Cristo per gli uomini. Riguardo alla Pasqua, Pasqua è un etimo incerto. Però gli studiosi hanno trovato una parola, sia in latino, che in greco, che in aramaico, da cui fanno derivare la parola Pasqua. In tutti e tre i casi queste parole significano passare oltre, e quindi anche oltrepassare. A Pasqua c'è l'usanza dell'uovo e della colomba pure, che sono molto importanti e diffusissimi. Pensate che l'uovo significa proprio le origini del mondo per le civiltà antiche. Cioè la nascita del mondo cominciava con l'uovo primordiale. E la cosa particolare è che questa è un'idea che è comune a tutte le più importanti civiltà del passato. Indiani, tibetani, ma anche in altre parti del mondo, i testi più rappresentativi di questo uovo primordiale, cioè si ritrova innanzitutto l'archetipo dell'uovo primordiale, e quando si trovano dei testi scritti, si trova la relazione di quest'uovo con il caos delle origini, quindi una forza vitale in cui l'uovo era presente come embrione, ma anche come germe di vita, perché poi il contenuto dell'uovo piano piano prenderà vita. E siccome tutta la vita continua metamorfosi e cambiamento, e dunque l'uovo, nonostante sia il germe della vita, anche l'uomo nasce da un ovulo, e quindi deve esso stesso però nascere alla vita. Un antichissimo mito racconta che in principio esisteva la notte, e la notte a un certo punto assunse la forma di un uccello che depose un uovo d'argento nel grembo dell'oscurità. E da questo uovo, per gli antichi greci, nacque Eros, che uscì dunque da questo uovo, portando alla luce il cosmo intero, le sue creature. Eros è l'impulso divino che ci conduce verso il sacro, verso Dio. E pensate che anche i sumeri, i babilonesi, i cananei, avevano come simbolo sia l'uovo che la colomba, e sostenevano che dal caos primordiale, quindi dalle acque primordiali, sorse una colomba. E ritroviamo, legato anche nel cristianesimo, il battesimo del Cristo, con il simbolo della colomba e dell'acqua. La colomba per gli antichi ebrei era lo spirito di Dio e rappresentava. E per i cristiani, invece, lo spirito santo, che è una delle forme della Trinità, una delle tre persone della Trinità. E l'uovo, nel suo stesso involucro, nel guscio, racchiude il germe della vita, il germe della riproduzione, quindi rappresenta anche la continuità, e quindi il tradere, la tradizione. E l'immortalità rappresentò l'archè. Se avete, gli antichi greci, la filosofia greca cercava l'archè, il principio di tutte le cose, no? E da archè viene l'archetipo, i simboli che Jung definì appartenenti all'inconscio collettivo. E quindi l'uovo rappresentò, nel tempo, l'archetipo psichico, proprio delle origini, della cellula primaria, che quindi è anche una sorgente di tutta la vita. E il giorno di Pasqua, secondo la tradizione contadina, rappresenta il momento di passaggio, ecco, la Pasqua come andare oltre, no? Quindi il passaggio, in questo caso, da una fase di riposo dei campi alla semina che genera nuova vita. E quindi ecco che Pasqua è il passaggio dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. E questi antichissimi simboli poi ovviamente si trasferirono nel cristianesimo. E in Gesù Cristo diventa simbolo proprio di vita, di morte e di risurrezione. E in tutte le culture l'uovo è immagine della perfezione. e si scolpivano uova in pietra, a volte in terracotta. E pensate che si ritrova perfino nelle tombe neolitiche. Gli archeologi hanno trovato degli oggetti a forma di uovo. E anche lì ci dicono che aveva il significato proprio di immortalità e risurrezione. quindi in qualche modo quelle uova antichissime fatte in pietra o in terracotta poste nelle tombe e anche lì vedete l'archetipo che agisce simboleggiavano la risurrezione. Quindi in qualche modo la rinascita, nuova vita. L'uovo anche come simbologia è uno e trino e rappresenta anche la trinità perché c'è il guscio, il tuorlo e l'albume. Per esempio nell'antico Egizio l'uovo era simbolo proprio della nascita, morte e risurrezione. Vedete quante analogie, quante storie si intrecciano nelle varie culture per poi prendere corpo nel caso del cristianesimo attraverso i simboli della coscienza cristica, i simboli del cristianesimo. Però la tradizione del colorare le uova è legata al nome dell'imperatore romano Marco Aurelio che fu un imperatore saggio. Se voi vedete il Marco Aurelio a Roma che si trova in piazza del Campidoglio e andate sotto e lo osservate bene, io l'ho fatto sempre vedere a miei allievi e anche a miei alunni, sulla testa sembrano gli crini di cavallo invece è un gufo rappresentato proprio perché il gufo è l'animale che vede nella notte e quindi la saggezza di Marco Aurelio era rappresentata anche attraverso il gufo perché Marco Aurelio fu un imperatore filosofo e quindi il filosofo era colui che riusciva a vedere oltre anche. Vedete, nuovamente siamo al passare oltre. E quindi perché la tradizione di colorare l'uova si lega all'imperatore Marco Aurelio? Perché il giorno in cui nacque Marco Aurelio una delle galline che appartenevano alla madre dell'imperatore depose un uovo segnato da tuttanti puntini rossi e questo fu interpretato come un buon presagio un segno fausto per la nascita dell'imperatore e quindi i romani cominciarono proprio per questo motivo la tradizione di scambiarsi uova decorate proprio come buon augurio e poi i cristiani ripresero questa tradizione e la perpetuarono assegnandogli ovviamente un altro significato e quindi ecco che il colore rosso assume una forza particolare perché rappresenta il sangue di Cristo e questo avrà molto importante nelle uova rosse che si scambiano nella tradizione ortodossa quindi questa usanza praticata anche in età romana restò radicata nella tradizione dei contadini delle popolazioni rurali e quando ci fu poi la conversione al cristianesimo e il cristianesimo si diffuse in tutto l'impero i significati pagani vennero sostituiti con i significati della nuova religione che era appunto il cristianesimo e quindi l'uovo simboleggiò proprio la risurrezione di Cristo dopo la morte e nel medioevo si cominciava a regalare uova sode benedette in chiesa proprio per rappresentare il Cristo risorto e l'uovo assomiglia a un sasso se voi lo osservate se lo mettete per esempio dove c'è molta ghiaia si confonde benissimo perché appare privo di vita esattamente come il sepolcro di Gesù il sepolcro di pietra nel quale era stato sepolto Gesù ma dentro l'uovo appunto c'è la vita c'è una nuova vita pronta a sbocciare e quindi da quello che è morto che sembra morto che è il guscio dell'uovo in realtà questo uovo a un certo punto si apre e nasce nuova vita ecco il sepolcro di Cristo che si apre e Cristo risorge in tutta la sua potenza e la sua luminosità e quindi l'uovo diventa il simbolo proprio della resurrezione l'usanza di scambiarsi uova benedette si diffuse tra i primi cristiani l'ho detto però è una tradizione che origina in realtà molto lontane proprio perché in culture anche che non ne hanno avuto contatti tra loro ecco l'archetipo che appartiene all'inconscio collettivo e quindi in tante culture si ritrova l'uomo come simbolo del rinnovamento periodico della natura ed ecco la primavera la Pasqua che è sempre vicina alla primavera e la primavera stessa possiamo dire che esce dall'inverno quindi dal sepolcro invernale quindi l'uovo si ricollega alla rinascita che si ripete ogni anno secondo il modello cosmico e quindi Cristo ogni anno rinasce in realtà Cristo rinasce in ogni momento rinasce nell'eternità anche fuori dal tempo però annualmente la festa della Pasqua ci ricorda proprio la resurrezione di Cristo e nell'antichità quando in primavera si celebrava l'arrivo del nuovo anno si mangiavano uova e lì siccome la primavera è anche portatrice di fiori di colori e si cominciarono a colorare queste uova e nella sfera occidentale cominciò quest'usanza di scambiarsi uova colorate e in particolare gli storici hanno individuato anche una data precisa il 1176 quando re Luigi VII rientrò a Parigi alla fine della seconda crociata e allora per festeggiarlo il priore dell'abbazia di Saint Germain gli donò tantissimi prodotti delle sue terre incluse uova in grande quantità e queste vennero proprio dipinte e distribuite a piene mani a tutto il popolo e da quel momento nasce proprio una tradizione immortale che arriva fino ai nostri giorni ma questo ad esempio in Armenia si usava dipingere sulle uova proprio il volto di Cristo gli armeni forse lo fanno ancora oggi o il volto di Cristo o il volto della Madonna o scene della Passione e invece la tradizione della Chiesa Ortodossa vi avevo accennato prima in questa tradizione vi è quello di colorare le uova sode dipinte di rosso quindi e offrirle poi anche agli altri le uova colorate di rosso e a Pasqua si consuma proprio un pasto dove ci si scambiano uova rosse e ci sono molte leggende ne ho scelta una ma in realtà ce ne sono almeno 15 diverse relativamente a questo uovo rosso a parte quella di Marco Aurelio che vi ho detto l'episodio che fu preso come segno fausto dell'uovo punteggiato di rosso ma nella Pasqua ortodossa vi dicevo ci sono una quindicina di leggende e una di queste narra che è una pia donna si impieto sì per la sofferenza di Maria che piangeva sotto la croce e guardava il figlio e allora siccome aveva solamente un cesto con qualcosa da mangiare e c'erano anche delle uova regalò un donò un uovo a Maria e quest'uovo venne colpito dal sangue che cadeva dai piedi di Gesù e quindi si tinse di rosso e allora questo del colorare l'uovo rossa nella tradizione ortodossa ci ricorda proprio il sacrificio di Gesù e anche appunto la resurrezione va bene il sangue rappresenta la morte e l'interno dell'uovo la resurrezione e ogni commensale nella tradizione ortodossa tocca la punta del proprio uovo che tiene in mano e poi tocca la cioè quella punta del proprio uovo che tiene in mano tocca l'uovo del vicino dicendo Cristo è risorto e il vicino risponde in verità egli è risorto bene cari amiche e cari amici auguro a tutti veramente una buona Pasqua e in questo periodo di clausura auguro veramente che il Cristo possa risorgere nel cuore di ciascuno di voi bene cari amiche e cari amici buona Pasqua a tutti Marco Cosmo di ciascuno